e quattro divinatori del re mi hanno dato le loro divinazioni sono molto buoni e molto azzeccati e adesso che abbiamo fatto la divinazione ci devi pagare da bere non mi piace trovarmi in una stanza quando ci sono troppi uomini che tengono un bicchiere di birra in mano sì, dei maestri divinatori al loro terzo bicchiere di birra è un po' troppo per me sì, io credo che loro hanno accesso a queste energie sciamaniche primordiali ma la loro opinione su ciò che puoi fare con questo per me non valgono niente e c'è questa donna molto potente che guarda proprio alla persona quella subito si emerge nell'oscurità proprio della Via Lattea lei aveva un dolore e uno dei miei allievi l'ha tolto questo dolore in tre secondi io ho notato quello che si può fare con l'energia che loro hanno io ho notato quello che si può fare con l'energia che loro hanno questo è cercando e lavorando un luogo dove sia possibile avere queste iniziazioni in un posto che sia comunque più adatto a persone che abitano in città europee in Italia, of course, is not possible no, I'm not talking about where sì, no, non mi riferisco esattamente a dove ma io mi riferisco proprio più che altro a l'atmosfera, l'ambiente nel senso di non avere dei selvaggi che ti dicono cosa tu dovresti fare con quei poteri ma praticamente nessuno tranne questi selvaggi proprio camminano in questa energia spero più su questo alla fine dell'anno poi potete guardare il mio sito e quando arriverò a una conclusione alla fine dell'anno si, e se puoi aiutarci a fare una conclusione per la fine dell'anno la fine dell'anno la fine dell'anno no, sta parlando del re ti ho nominato il re che tira rosso tutto si, ok, ma ha sceltato il re no, no, è vero ma così lui era in Nigeria fino all'altro giorno il re che lui ha incontrato tirava davvero rosso dietro alla gente non era una battuta, è vero? sì, io mi riferivo al re di Inghilterra che tiravano l'osso ma io comunque ho visto qualche giorno fa che non era un osso ma era del mais che prendeva in mano e tirava cioè era tutto abbastanza bene, lui lo deve essere molto ammorsale così via quindi vediamo che è un risultato qui in Europa è un risultato di sale e forse è un risultato beh, è un risultato di sale sì, molte persone hanno un'energia molto forte ma ciò che fanno questa energia non è molto comprensibile come l'idea adesso sperimentiamo Okan Ran cioè non esiste per loro sì, impari cento storie per ciascuna o d'una e allora lì cominci ad avere l'esperienza ci vogliono dieci anni quello di entrarci in un giorno cioè non è normale per loro ma se non li avessi visitati cioè non potrei neanche dire su dove metterci i piedi agli altri almeno che gli Udù non si mettono a parlare con me ovviamente e poi stavo facendo una seduta terapeutica e questa persona mi ha detto tutto quello che voglio è l'amore e ha fatto così una mano soltanto si è mossa e le persone non mi lasciano avere i pensieri propri e fare quello che voglio e soltanto l'altra mano si è mossa per cui un atto del corpo era ottura positivo e l'altro lato invece era obara negativo e Maria Luisa stava facendo la traduzione della seduta e in un momento in cui lei non voleva imparare niente sugli Udù e le spaventava l'idea che potesse diventare un Pai di Santo si è come un prete di un orisha per la comunità si è molto peggio di così sono molto al di sopra di questo livello e è molto peggio e in quel momento lei non voleva imparare niente sugli Udù e alla fine di quella seduta entrambi le mani del cliente si muovevano insieme e lei era obara dentro e circondata da amore ottura fuori per cui Maria Luisa mi ha chiesto ma perché un indice indicato non è obara dentro e altura fuori tu hai mai sentito questi nomi prima? no ma è ottura da un lato e obara dall'altro lato e io ho detto sono dei Udù e lei ah no ma non posso non essere e io non volevo imparare le Udù ma ma è lì su un foglio di carta e lei ah no ma è lì ah no